Ciao ragazzi, sono Giuseppe e benvenuti in questo nuovo video. In questo video vi parlerò del post-partito del Pageli di Juventus-Atletico Madrid. Partita valevole per la quinta giornata del Giro di Champions League, finita 1-0 per la nostra Juventus. Bene così ragazzi. È stata una grande partita giocata dalla Juventus, specialmente un grande primo tempo, da parte anche di un grande Di Bara. Partita sbloccata su 1-0, partita del 1-0 è stata fatta da Paolo Di Bara, con una grande punizione di Di Bara, che neanche io ci credevo potesse segnare una punizione così di Di Bara. Grandissimo Di Bara, punizione stratospecato di Reta. Bene così ragazzi. È stata una grande partita giocata dalla Juventus, dal primo minuto fino all'ultimo secondo, tranne un po' che caro nel finale, che potevamo evitare, ma potevamo anche fare 2-0 poi nel secondo tempo. Ma va bene così, 1-0 ragazzi, è solo 3 punti per la nostra Juventus. Prima legione in assoluto, prima legione in assoluto, un testo di serie. Bene così ragazzi. Adesso parliamo delle pagelle. Cesni, 6. Danilo, 6. Bonucci, 6 e mezzo. Derit, 7 e mezzo. Desciglio, 6. Bentancur, 7 e mezzo. Piranici, 6. Matuidi, 6. Ramsey, 6. Di Bara, 8. Ronaldo, 6. I cambi. Benedeschi, 6. Iguarini, 6. Che dica, 6. Bene ragazzi, questo è tutto. Vi auguro una buona giornata e fino alla fine, forza Juventus. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi.